Una buonissima serata a tutti voi come sempre ben ritrovati, grazie per essere ancora una volta qui in mia compagnia. Subito, brevemente, lo faccio sempre, vi ricordo il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione. Basta inviare una mail al nostro indirizzo, lo sapete a memoria, ve lo ricordo, angoli-espansionitv.it. Iniziamo questa prima parte del nostro appuntamento con un ospite alla quale davvero, credetemi, io tengo moltissimo. Ve la presento subito, è la nostra Daniela Manili. Pessina, ciao Daniela! Ciao Dolores, buonasera a tutti. Già questa presentazione ti imbarazza alla grande. Ti imbarazza, ma passeremo subito oltre. Insomma, poi parlando di fotografia poi mi passa. Infatti perché tu sei una fotografa appassionata sia nel senso appunto della passione straordinaria che metti in questa cosa e anche perché è davvero uno strumento che tu usi con una disinvoltura straordinaria che io ammiro, che io seguo. I miei like sulla tua pagina sono costanti perché davvero tu hai una capacità incredibile di portare fuori dalle cose delle emozioni. Come fai a fare questo? Allora, principalmente è difficile e anche facile nel senso che mi emoziono io e quindi passa quello. Passa quello. Molto spesso non so, in realtà non vado a cercare qualcosa di specifico, ma mi trovo in un luogo, insomma un luogo bellissimo del lago, insomma come ci capita, siamo fortunati da questo punto di vista. Siamo qui e quindi c'è molto materiale. C'è tantissimo materiale, quindi è un dettaglio, mi colpisce, mi cade l'occhio su qualcosa che insomma non era chiaro nemmeno a me e quindi poi mi viene voglia di raccontare quello che ho visto, che non è detto che per carità lo veda solo io, è sotto gli occhi di tutti, però magari manca la sottolineatura, quindi uso la fotografia come un po' una piccola lente per far notare le piccole cose. E a tal proposito c'è in questi giorni un'occasione davvero molto molto particolare, perché il tuo modo singolare di guardarti intorno ha fatto sì che addirittura ci sia una mostra. Di cosa si tratta, ricordiamolo? Allora, la mostra si chiama La forma dell'acqua, quattro storie di lago, le vedo scorrere anche sul video. È nata appunto un po' per caso, ma appunto io al caso affido anche un po' un significato senza andare su. È sempre così, nulla accade per caso, quindi è vero. Esatto, e anche un po' le coincidenze che capitano, quindi ovviamente se uno sta a casa sua e non si muove, non cerca, non prova a fare esperimenti, è difficile che le cose accadano. Però invece se tu dimostri uno sguardo curioso e lo fai insomma nelle situazioni di tutti i giorni, magari questo sguardo viene notato e poi può diventare una piccola mostra come è stato in questo caso. Una mostra che tra l'altro, lo ricordiamo, viene ospitata presso la Camera di Commercio di Como, è già fruibile da qualche giorno perché è iniziata il 22 di marzo, se non sbaglio. Esatto, perché era la giornata, il World Water Day. E proprio qui voglio arrivare tra pochissimo per parlarne, ma sarà fruibile per un lungo periodo, fino al 26 di aprile. Quindi insomma ci sarà davvero l'occasione per andarla a visitare assolutamente, ma proprio al World Water Day voglio portarti perché alle cronache anche di questi giorni è proprio il lago di Como, insieme ad altri bacini in Italia, al centro dell'attenzione per questa stagione caratterizzata dalla siccità che davvero ha ridotto il livello dell'acqua. Un bene prezioso, celebrato, come abbiamo ben detto, addirittura una giornata mondiale. Esatto. E tu, non so se per queste ragioni o per la tua capacità, come dicevamo, di guardarti intorno con spirito curioso, hai proprio portato la tua macchina fotografica sull'acqua. Perché? Allora, diciamo che poi il discorso del fare una mostra proprio in quel giorno, in realtà mi è sembrata anche una grande responsabilità, perché appunto io ho un po' uno sguardo selettivo su quello che trovo bello da valorizzare, ma questo non voleva fare da alibi poi al fatto che in realtà la situazione dell'acqua sul pianeta e anche sul lago di Como è in realtà un grandissimo dramma in questo momento. Quindi anche nel proporre la mostra e nello scrivere una piccola introduzione, l'aspetto che ho voluto sottolineare era che la mia piccola ricerca sulla bellezza voleva anche essere un po' una ricerca su qualcosa che al momento magari abbiamo davanti e non riusciamo a cogliere, a valorizzare, ma che poi potrebbe sparire da un momento all'altro. Quindi il fatto di quasi sentire poi la mancanza un po' di quanto di bello abbiamo intorno, perché non volevo forse un alibi il fatto di mostrare l'acqua con una certa modalità per dire non facciamo nulla, va tutto bene, continuiamo così, perché adesso veramente la situazione del clima, gli alberi caduti, la situazione è veramente drammatica. Tantissimi sono gli elementi che ci fanno capire che la drammaticità ormai è all'ordine del giorno, è davanti a tutti, ed è diventa come tu correttamente Daniela hai sottolineato, anche un senso di grande responsabilità. Di grande responsabilità, certo. E quindi procedo un po' a ritroso rispetto alla domanda che mi hai fatto. In realtà, allora, la mia ricerca un po' sull'acqua, io sono tantissimi anni che faccio immagini proprio perché mi piace, è un discorso più di sensibilità e l'acqua è un qualcosa che in realtà andando anche a guardare indietro ho sempre un po' ricercato, perché è un po' anche uno specchio di tutto quello che succede intorno ed è anche uno specchio appunto per la sensibilità, per cui sono storie diverse quelle che si trovano in mostra, la principale è fatta un po' che è quella delle foto anche che vedete qua sul divano. Anche qui, ecco, approfitto per chiederti Daniela, quindi qual è la modalità corretta per ovviamente visitare la mostra, ma anche per cogliere il senso vero che tu vuoi dare a queste immagini, che in qualche modo ci hai anticipato, ma proprio per non guardarsi intorno così semplicemente, ma avere chiara qual è la tua idea? Allora, sono proprio quattro storie, allora la principale è quella che vedete, diciamo lo spunto creativo che sono andata a cercare, era guardando il lago in un punto bellissimo tra l'altro che è la Tremezzina, ero andata a visitare Villa Carlotta per un'apertura delle serie nella stagione invernale, quindi una piccola chicca, avevo la macchina fotografica, uscendo, c'era il bacino del lago fuori dalla villa, sul lungolago, assolutamente piatto, con dei riflessi pazzeschi, e col teleobiettivo mi sono soffermata su alcuni dettagli e ho visto un po' queste macchie, queste pennellate di colore, ma anche dei personaggi che trovate in mostra, che poi avevo pubblicato su un gruppo, e avevano la gente dei gruppi Facebook, sai come fa commenta, hanno cominciato a vederci dei personaggi misteriosi, quindi in questo caso la chiave del racconto principale è un po' il lago optical, l'ho chiamato, cioè il lago che come un po' l'arte proprio optical, di cui c'è una bellissima mostra tra l'altro al Max di Franco Grignani, che è il papà del marchio della lana vergine, che è un mass della grafica, della comunicazione, e quindi un po' ambiziosamente ti sei ispirata a questa cosa. Queste macchie, questi movimenti dei pontili, delle barche, insomma di tutto ciò che si riflette, e un po' lo sguardo rimane catturato, un po' impigliato in questi disegni, un po' come le macchie famose. È una rete insomma che ti ha davvero catturata. Esatto, quindi la chiave di questo racconto, primo, è proprio che ognuno ci può vedere un po' quello che vuole, questi animaletti misteriosi, questi abitanti del lago che insomma vivono lì nascosti e emergono solo agli sguardi. Quindi la tua fantasia non si ferma assolutamente, ma anzi stimola tutti noi nell'andare a visitare questa mostra per interpretare. C'è un uomino che nuota, una paperella, ci sono dei personaggi un po' curiosi, così se avessi dei dubbi sul mio stato mentale. Lì abbiamo conferma di quale questo stato sia, ma abbiamo anche conferma, sì sì ne ho assoluta conferma, ma un altro degli aspetti interessanti perché nel seguire le tue parole mi ci sono ritrovata davvero tanti sono i tuoi post anche sulla tua pagina Facebook dove ci sono delle immagini, come dicevi tu, che inevitabilmente portano a intravedere qualche cosa, quindi ad andare oltre ed è davvero sempre molto interessante seguire la tua pagina e le tue immagini. Tra l'altro, non so se questo c'ha zecca, ma io te lo chiedo, fa niente, tanto chiacchieriamo e siamo amiche. Io so che tu hai anche una passione per la pittura, per l'acquarello se non mi sbaglio, quindi immaginandoti davanti ad una tela, dando comunque delle pennellate che anche in quel caso saranno sempre forse un po' astratte, un po' in grado di sviluppare la fantasia, ecco, mi immagino se questo è un altro tuo modo per raccontare questo mondo che ti sta intorno e che tu ami trasformare ulteriormente. Sì, anche quella è una passione, ma appunto ho poco tempo di esercitarla, però quando mi capita, volentieri, anche lì sì, sono un po' sperimentazioni astratte e appunto il fatto di dipingere con l'acqua, anche in quel caso. E quindi tutto torna, non è assolutamente un caso. Senti, quindi ricordiamo questa mostra, come abbiamo detto, dove si trova e fino a quando? Allora, si trova in Camera di Commercio a Como, negli orari di apertura della Camera di Commercio, però ci sono sulla locandina sui materiali di comunicazione, non so se è il caso di ricordarli, comunque tutte le mattine dalle 8.45 alle 12.15, a parte il mercoledì, che è dalle 8.30 alle 15.30, perché c'è il mercoledì del cittadino, quindi purtroppo solo in settimana e non nei fini di settimana, però magari una pausa pranzo, un mercoledì, ci può stare. È consigliabile assolutamente. E poi sono più di una le storie di Lago, ne abbiamo raccontata una sola, quindi gli altri sono da scoprire. E c'è anche un particolare, perché abbiamo davvero un minuto a disposizione, io ci terrei qua per tutta la puntata, poi magari torni perché ci sono ancora tantissime cose su di lei interessanti, c'è anche la possibilità, se non sbaglio, di lasciare un commento, questa è una cosa molto carina. Chiedo alla regia se mi recupera l'immagine, eccola qua, che cos'è questo? Siccome sono racconti per immagini le storie, ma poi ci sono anche delle piccole storie testuali che mi sono divertita un po' per far capire dove ho fatto le foto e qual era il senso, mi piaceva che fosse un invito per la gente a trarre ispirazione dalle mie foto, dalle mie storie e a scrivere con i testi, ma anche con le immagini, le proprie storie. Cioè non volevano, sono quattro storie piccole, mi piaceva che la gente raccontasse le sue a partire dall'ispirazione delle mie. Daniela, io ti adoro questo, te lo dico, lo dico pubblicamente. Mi devo arrossire un'altra cosa anche sul finale. L'ultima domanda è, esci mai di casa senza la tua macchina fotografica? Difficile, faccio un certo sforzo, però su questo anche vorrei sfatare un po' un mito, cioè io principalmente cerco di portarla perché la qualità delle immagini è diversa, però non sono snob sui cellulari, sugli altri mezzi di comunicazione, trovo che la gente si esprima molto bene, non solo con i selfie, ma anche proprio raccontando le sue storie di quello che vede. La gente ama raccontare il territorio a partire da quello che vede, non ama solo che noi glielo raccontiamo, noi che ci proviamo insomma, ma ama raccontarlo in prima persona. Perché questa è un'altra tua passione, è proprio quella di raccontare il territorio attraverso la fotografia. Bene, allora, io saluto e ringrazio Daniela Manili-Pessina per essere stata qui, per aver lanciato questa mostra che abbiamo detto è già in corso, ma sarà fruibile ancora per qualche giorno, per averci portato queste immagini. E io direi continua, insomma, a fotografare con questi tuoi pensieri meravigliosi, a dare a noi la possibilità di inventare delle storie sulle tue immagini. Grazie, grazie Dolores, grazie a tutti e vi invito a vedere la mostra. Certamente, grazie anche a voi, rimanete lì perché tra pochissimo è tutta un'altra storia, ma saremo sempre ad angoli. Grazie a tutti.